Grande successo per l'Open Day Groset 2019, tantissimi curiosi che si sono recati al birrificio Fratelli Trami per la presentazione della birra invernale. I visitatori, oltre alla degustazione di tutte le birre alla spina, hanno avuto la possibilità di fare un tour guidato per il birrificio e il privilegio di scoprire i segreti della produzione della birra artigianale. Quest'oggi stiamo presentando la Groset, che è la nostra classica birra invernale. Non è una birra nuova, ma è una birra che ogni anno riproduciamo e ogni anno è comunque sempre una bella sorpresa, un bel ritorno. E' mancata tanta gente la birra e anche noi stessi avevamo voglia di riassaggiarla e visto la gente che è venuta, i feedback che abbiamo sentito, è una birra che ha sempre il suo fascino e piace sempre notevolmente. È una birra abbastanza forte, una birra ad 8 gradi e 3, questa è la caratteristica per la quale abbiamo deciso di mettere in produzione solo per il periodo freddo dell'anno, perché una gradazione alcolica così si presta di più in questo periodo. È una birra di ispirazione belga, una birra ben strutturata, un colore bruno scuro e è una birra molto molto piacevole, accompagna benissimo per esempio dei formaggi o dei piatti di selvaggina. Normalmente è una delle più richieste, o meglio, più richiesta no, quella che forse piace di più è la triple, è la 3-3. È una birra da 7 gradi e 3, anche qui una gradazione alcolica abbastanza elevata, chiara, tendenzialmente dolce, però non è la birra che produciamo di più di tutte, anche perché rimane una birra molto buona, molto piacevole, però che fa già una certa selezione nel consumatore, vista la gradazione alcolica. La birra invece che bruciamo di più di tutte è la classica LS, per cui la nostra landa, la birra chiara a 4 gradi e 2, molto molto beverina, dove veramente è una birra che se ne beve a fiumi. Quando si è fatto 5 bicchieri di quella, ne fai uno di 3-3, è per questo che ci sono questi rapporti di vendita. Abbiamo la nostra linea, chiamiamola tradizionale, composta dalle classiche birre di quando abbiamo iniziato con il birrificio, e poi da un anno a questa parte qui abbiamo fatto una linea parallela, sempre firmata da noi, sempre prodotta da noi, per cui artigianale a tutti gli effetti ed è destinata alla grande distribuzione, nella fattispecie al gruppo Italbricks, composto dai negozi supermercati Italmark e Family Market. È una collaborazione che è nata a gennaio di quest'anno e ci sta dando notevoli soddisfazioni e a noi e vedo anche al nostro cliente. Grazie a tutti.